Quello che si dice, siamo venuti a sentire un po' cosa è successo, non è animale nostro, un leone, noi due leoni non abbiamo, abbiamo sette tigri, una tigre bianca e tantissimi altri animali, non un leone e siamo venuti a sentire un po' la situazione e capire cosa c'è, cosa si può fare anche magari offrendo la nostra esperienza come aiuto, qualora ci fosse per prendere questo animale. Questa mattina verso le 9 sono venute due o tre pattuglie della polizia, anche i carabinieri a vedere la situazione e hanno constatato che effettivamente è tutto tranquillo, controllando le nostre documentazioni, registri, contando tutti gli animali uno a uno e non abbiamo nessun problema. Non riesco a capire che animale ci possa essere qua perché nelle vicinanze oltre a noi che tengono animali del genere non credo ci siano zoo o cosa ci possa essere, insomma, non lo so, se colore ci fosse quest'animale offriremo appunto la nostra esperienza, non posso pensare che tipo di animale ci possa essere perché anche non conoscendo, non essendo del posto, della zona, non mi viene in mente nessun tipo di animale.